cari ascoltatori vi saluto cordialmente nel prezioso nome del signore gesù cristo in giovanni capitolo 16 versetto 12 il nostro signore dice ho ancora molte cose da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata oggi vogliamo continuare il filo conduttore della scorsa domenica nell'ora del compimento della parola di dio riconosciamo ciò che sta accadendo nella storia della salvezza non sono le interpretazioni che diamo a una cosa ma la realizzazione stessa che ci convince gesù cristo aveva parlato ai suoi di tutto avrebbe volentieri raccontato loro i dettagli delle varie cose ma non tutto era destinato a quell'epoca lui ha detto ho ancora molte cose da dirvi questo non significa che la parola di dio non sia completa e che qualcuno debba aggiungere alla testimonianza completa delle sacre scritture al contrario l'intero piano di salvezza di dio ci è stato lasciato in eredità ciò che conta adesso è che lo spirito di dio possa rivelarci i collegamenti quando le profezie bibliche si adempiono dobbiamo riconoscerlo gli scribi non erano guidati dallo spirito di dio alla prima venuta di cristo come per esempio giovanni battista simeone anna i discepoli di giovanni e i discepoli di gesù nel corso dei secoli sono stati commessi gli stessi errori la gente ha interpretato gli eventi biblici secondo la propria discrezione allontanandosi così dalla realtà torniamo a uno dei nostri pensieri principali se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di dio paolo ha affermato che l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di dio prima che lo spirito di dio possa ammaestrarci e condurci nelle più profonde profondità del mistero divino lui deve aver preso dimora nei nostri cuori in altre parole non solo dobbiamo essere nel regno di dio ma il regno di dio deve essere dentro di noi dio era in cristo e cristo era dio stesso manifestato nella carne se siamo veri cristiani allora non solo deve essere così secondo la confessione ma dobbiamo poter dire come paolo ora non sono più io che vivo ma cristo vive in me il signore gesù avrebbe potuto dire ai suoi discepoli molte altre cose sugli eventi che avrebbero avuto luogo nel corso della storia della salvezza ma lui ha dato la grande promessa quando però sarà venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito ecco la chiave per noi credenti in questo tempo lo spirito santo rivela in un certo tempo le cose della parola di dio che sono significative e che devono avvenire nella storia della salvezza lo spirito santo non parla oltre la parola di dio nessun programma nuovo o proprio viene sviluppato no lo spirito santo conduce in tutta la verità e la verità è la parola di dio lui parlerà solo di ciò che è già scritto egli annuncerà le cose avvenire in questo contesto pensiamo in modo molto particolare a giovanni sull'isola di patmos che vide il corso delle sette epistole e poi vide una porta aperta nel cielo e sentì una voce che gli disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito questi due passi biblici hanno qualcosa in comune entrambi parlano di ciò che verrà lo spirito di dio non rivela solo ciò che nel passato o nel presente ci è permesso per grazia secondo la parola di dio di vedere ciò che verrà rivelato quando guardiamo al futuro qui non è secondo il giudizio umano non sulla base di previsioni che la gente fa lo spirito di dio si attiene sempre alla parola di dio siccome viviamo ora così vicini al ritorno di gesù cristo dobbiamo vedere il piano di salvezza di dio dall'inizio alla fine nella luce divina nelle sette epistole c'erano sette messaggeri che come angeli delle chiese proclamavano ciascuno il messaggio divino tutti coloro che sono nati dallo spirito di dio sono guidati dallo spirito santo in tutta la verità paolo scrive ai romani tutti quelli che sono guidati dallo spirito di dio sono figli di dio se a applichiamo questo standard allora ci sono pochi che possono essere chiamati figli di dio dio ha sempre mandato i suoi servitori ha rivelato la sua parola e la sua volontà e ha dato fede e fiducia a coloro che sono stati ordinati a ricevere la vita eterna alla prima venuta di cristo giovanni fece la sua apparizione fin dalla nascita fu ripieno di spirito santo aveva una missione speciale e tutti coloro che avevano trovato grazia presso dio si riunirono intorno al messaggio divino di quel tempo loro erano fermi in tutte le prove e sapevano che la parola di dio si stava adempiendo l'hanno visto perché hanno creduto ecco il segreto tutti coloro che non erano disposti ad ascoltare la predicazione dell'uomo mandato da dio non ricevettero l'insegnamento biblico attraverso la predicazione e quindi rimasero all'oscuro del compimento degli eventi biblici la fede viene ancora dalla predicazione e la predicazione dalla parola di dio ma solo dove lo spirito santo può ispirare un predicatore e mettere le promesse sul candelabro per il tempo stabilito le persone sono riempite con la fede viva vedono il regno di dio in mezzo a loro e riconoscono sulla base delle sacre scritture in che modo il signore sta operando nel loro tempo fondamentalmente dio ha un solo tipo di proclamatori e questi sono coloro che hanno sperimentato una chiamata divina sono pieni di spirito santo e parlano per incarico di dio sì diventano dei portavoce affinché il signore stesso possa parlare attraverso di loro coloro che leggono la bibbia avranno i loro occhi aperti sugli eventi che hanno luogo nel regno di dio ai giorni di gesù c'erano molti che erano giusti e timorati di dio persone che erano tenute in grande considerazione che leggevano la legge e i profeti che predicavano ogni sabato che adoravano e tuttavia mancava loro l'illuminazione dello spirito santo cari ascoltatori cari fratelli e sorelle la chiesa di gesù cristo non è un'istituzione terrena non è lasciata agli uomini e al loro arbitrio la chiesa di gesù cristo non è un'organizzazione ma un organismo vivente di veri credenti che sono stati elevati ad una nuova vita con gesù cristo abbiamo già visto che il signore gesù disse a nicodemo voi dovete nascere di nuovo solo così possiamo vedere il regno di dio e rimanere nell'opera dello spirito santo non voglio dirlo ma è vero che tutte le chiese e le chiese libere tutte le congregazioni e le comunità insegnano secondo la loro denominazione e non lasciano che lo spirito santo li guidi in tutta la verità gesù cristo non è venuto per fondare centinaia di chiese diverse in lotta tra loro lui non è venuto neanche a riunire un ecumenismo in cui ognuno crede quello che vuole egli è venuto per dare il suo sangue e la sua vita per noi e a redimere purificare santificare un popolo da unire come il suo corpo soltanto lì dove l'organismo vivente del corpo di gesù cristo è unito dal signore stesso attraverso la potenza dello spirito santo le cose a venire possono esserci annunciate solo in questo modo siamo aggiornati nel regno di dio e godiamo delle benedizioni soprannaturali di dio a cosa ci servirebbe sapere che il signore ha avuto i suoi servitori e messaggeri nel passato e che lui ha parlato e operato attraverso il suo spirito se non potessimo sperimentare le stesse cose allo stesso modo oggi il signore gesù aveva molte cose da dire e siamo contenti che egli abbia mandato lo spirito santo per rivelarci le sue parole tramite questo gesù cristo viene glorificato solo coloro su cui è venuto lo spirito di verità possono essere condotti in tutta la verità loro vedranno e sperimenteranno anche le cose future che dio ha promesso preghiamo padre celeste ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola ti ringraziamo per lo spirito santo che ci guida in ogni verità benedici ora tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola lo chiedo nel nome di gesù amén paura 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 Grazie.